Allora, altro video, non per importanza, quello dei profumi, aspettate, andatemi qua, c'è una cosa, andate, vi dicevo, ho quello dei profumi da far vedere, perché, vabbè, segnozzo come al solito. Allora, il profumo che più indosso in assoluto, sia quando non lo volo talco, che quando anche lo dovrei ancora acquistare, ma lo devo acquistare, però mezzo a voi, ma soprattutto in primis a me, che acquisto il volo talco, vedo, il de volo talco, alto là il sudore, perché quello lì è al più che amo in assoluto, vabbè, anche il daver non è male, però voglio provare uno che non mi faccia puzzare, perché se puzzo è una vergogna. E' brutto, a dire, ma è la verità, bonbon Marizia, le dà tanto che lo sto usando, e tra un po' andrà scemando, ovvero, che non ce ne sarà più, quindi io dovrò comprare un altro, simile a questo, ma diverso, vabbè, niente, vabbè, non perdere meglio, comunque questo mi sto piacendo davvero tanto, ha una promozione, a dire, poco fantastica, e non so quanto ce n'è, 75 milioni di prodotto, sì, per un paio di niente. Boh, non lo so, non lo trovo, il paio non c'è, non importa, dai, non stiamo lì a verificare, il paio non paio, questo è, 50 millimetri, 24 mesi, ok. E anche questo mi sta piacendo un botto, ma fenomenale, qua addosso ne è uno della farmacia, perché mi hanno omaggiato uno in farmacia della Parma, boh, non mi ricordo che numerazione sia, comunque non importa, un profumo che è fenomenale, è troppo buono, anche quello che è in farmacia, che ho preso in omaggio in farmacia, questo non è male per niente, buonissimo, già. E questo è sempre della bombomalizia, top, più piccolino, miniatura piccola. Poi, non per importanza, abbiamo finito, il acqua profumata, aromatica, body mist, dei tesori d'oriente, questo qua è tè verde e verbena, aiuto. Questo, non è male per niente, quindi, anzi, all'inizio, lo dirò in ogni video, quando termino questi profumi, quando li metto per fare un make-up, così via discorrendo, che via dicendo, diciamo, che questo qui non mi piaceva all'inizio, però poi ho detto, che ve lo fa fare di buttarlo? Lo uso ogni tanto, una volta ogni tanto, poi ciao, buona lì, finisce lì, invece no, lo sto adorando come se non ci fosse un domani, bellissimo e pacomattissimo, buono, 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 fantastico. Devo andarci piano, perché se no mi dà la testa, mi fa bimaldi di testa, come se non dite qua in Sardegna, mal di capo, quindi anche no, grazie. Però, ci vado a cauta, però mi piace, dai, non è male. Questo è da 200 mole di prodotto, addirittura, per 36 mesi di pao, vabbè, ho detto che andavo a stare lì a portare il pao, però, sotto estrada, come un muro, vabbè. Allora, ragazze mie, se questo video vi è piaciuto, lo dico all'inizio, ma alla fine, mettete un bel like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella, per non perdere i prossimi video aggiornamento. Ciao!